I servizi primari dei comuni della Sardegna sono a rischio a causa del caro bollette. È quanto dichiara in una nota l'Associazione Sarda Enti Locali. Non adeguata e non risolutiva la soluzione adottata con la legge cosiddetta Omnibus, ha dichiarato il presidente del Asel, Rodolfo Cancedda. Con la prossima legge di bilancio, la Omnibus Bis, occorre dare una risposta certa e definitiva ai bisogni reali delle nostre comunità. I sindaci dei Medi e Piccoli Comuni Sardi, infatti, da tempo denunciano che, a causa degli aumenti, sono costretti a ridimensionare non solo l'illuminazione pubblica nelle strade e nelle piazze, ma anche l'erogazione di servizi fondamentali nelle scuole e nei servizi sociali. Per questo motivo, l'Asel Sardegna, l'Associazione dei Comuni Sardi, ha chiesto ufficialmente al presidente della regione Cristian Solinas la convocazione urgente della conferenza permanente degli enti locali per affrontare il tema degli aiuti finanziari a tutti i Comuni Sardi per dare risposta ai bisogni dei cittadini in ordine ai problemi della sicurezza pubblica e di garanzia nell'erogazione dei servizi primari, specie alle categorie più fragili e bisognose di assistenza certa.